La Guardia di Finanza di Pescara ha scovato e sequestrato oltre 3 milioni di euro in Lituania in un conto abilitato al trading e in criptovalute. L'operazione nel mondo blockchain ha individuato in Lituania un conto corrente a lavanderia per rendite illegali. Nei circuiti multivalutata della più meridionale delle Repubbliche Baltiche sono finiti milioni di euro, profitti illeciti di un'imponente catena di evasione fiscale che ha funzionato dal 2015 al 2020 perpetrando una truffa transnazionale sul mercato europeo con un valore commerciale di fatture per operazioni inesistenti attorno ai 53 milioni di euro. Il sequestro, disposto dopo il coordinamento con la Procura di Pescara e a seguito delle indagini sull'Associazione per delinquere sgominata pochi mesi fa per la maxifrode internazionale di autodilusso sul mercato europeo, il sodelizio criminale internazionale era indagato per truffa gravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori e negli anni ha accumulato un bottino ragguardevole di roccato ad oggi dopo che il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato tutti i ricorsi presentati confermando il sequestro di ville, autodilusso, orologi preziosi, dipinti, carte di credito e disponibilità finanziarie per oltre 6 milioni di euro. Di questi la metà è finita in un conto corrente lituano adibito al trading di bitcoin, ora congelato dalle fiamme gialle del capoluogo adriatico, che hanno agito anche grazie alla collaborazione degli organi collaterali esteri. In una nota il comandante provinciale di Pescara, Antonio Caputo, spiega che gli abissi virtuali delle criptovalute offrano una sponda alternativa di wash trading, spesso praticato assieme agli strumenti più tradizionali del riciclaggio internazionale di profitti illeciti.